ragazzi ci siamo finalmente è arrivato il giorno di provare lui il gogo bird aigol la grande aquila di casa gogo bird di cui è arrivato il suo fratellino minore qua sul canale ma questo ragazzi è tutto un altro prodotto è sempre diciamo un concetto di volo simile al suo fratellino minore ma qua abbiamo un prodotto molto molto più performante direi anche fin troppo performante perché qua ragazzi quando le ali sbattono e sbattono tanto e questo gli fa fare tanta tanta strada molto molto velocemente quindi bisogna stare molto attenti quando le si utilizza perché altrimenti ve lo trovate magari anche un paese dopo del vostro ma però è tanta tanta roba lui lo potete acquistare direttamente dal sito ufficiale gogo bird ve lo lascio qua sotto il link in descrizione sicuramente non è un prodotto economico come suo fratellino minore è un prodotto secondo me abbastanza costoso ma che però dà delle prestazioni ragazzi allucinanti a livello di ingegnerizzazione se vogliamo è stratosferico perché comunque se vogliamo è sicuramente un prodotto innovativo ed ha un realismo nel volo ragazzi che è pazzesco riesce a riprodurre anche il suono dell'aquila ma adesso guardiamo come si assembla prima di utilizzarlo quindi vado aprire la valigetta che è una valigetta semplice di quei materiali antiurto comunque l'unboxing di lui è arrivato già parecchio tempo fa poi non avevo ancora fatto la video recensione perché comunque serviva anche il meteo giusto e il tempo di farla la recensione adesso è arrivato tutto quello che serviva per farlo quindi meteo e tempo e ragazzi oggi è il suo giorno la confezione è semplice ma è quello che serve per portarvelo in giro quindi manuale di istruzione che ovviamente è sempre meglio avere con sé poi troviamo direttamente il corpo centrale quello in cui c'è la batteria i motori che fanno sbattere le ali quindi tutto quello che è il suo comparto tecnico i motori è qua dentro dopodiché abbiamo la coda è una coda che è quella che gli permette di virare a destra e a sinistra per andare a installarla è semplicissimo basta andare inserire la coda qua in questo perno poi ci sono i contatti sotto perché comunque la coda bisogna ovviamente della corrente per far alzare i due flap qua di dietro che gli permettono appunto di virare prima di andare a chiudere il fermo dobbiamo montare le ali quindi vado a recuperare le ali che troviamo qua sotto a questo pannello di gomma eccole qua per montare le ali anche questo è davvero semplice ci vuole proprio due secondi basta andare ad inserire questo perno qua nella sua fessura e l'altro perno ovviamente nell'altro lato adesso dobbiamo andare ad agganciare quello che sono questi tiranti quindi vanno agganciati qua dietro spero di riuscire a farvi vedere comunque è davvero semplice dopodiché una volta che sono agganciati dentro chiudiamo quello che è il fermo della coda clac quando sentiamo il clac il fermo ha fatto il suo dovere ha fermato il tutto adesso basterà andare adesso questa parte è uscita perché comunque è dentro solo inserita morbida non aggancia perché comunque serve anche il discorso che se dovesse precipitare o meno l'ala può sfilarsi senza danneggiare il motore o quella che è la parte degli ingranaggi quindi adesso basterà andare a mettere i due fermi qua sopra che sono due fermi a pressione che tengono fermi la parte centrale delle ali adesso ve li faccio vedere ecco qua i due fermi di plastica a pressione sono delle specie di ranelle che vanno solo inserite sopra pressione a questi perni e voilà l'aquila è pronta a questo punto dobbiamo solo inserire la batteria che va inserita qua sotto quindi apriamo la sua pelle con questa cerniera e qua sotto abbiamo lo sportellino che andiamo ad aprire e qua sotto possiamo andare ad inserire la batteria che ovviamente in questo momento è già inserita comunque in questo procedimento andiamo a sostituire la batteria perché in confezione comunque abbiamo due batterie che ci dovrebbero garantire circa dieci minuti di volo a batteria quindi una ventina di minuti di volo di divertimento a questo punto prendiamo il controller che è questo un controllo che ci viene dato per 500 metri di range anche se ragazzi vi consiglio di non andare così lontani perché uno non lo vedete due non capite neanche più la direzione e lo perdete sicuramente quindi state secondo me al massimo ad una distanza non più di 100 metri e non salite troppo di quota perché davvero non capite più la distanza la direzione il bello è vedervelo girare intorno quindi secondo me al massimo massimo 100 metri non di più e anche come altezza secondo me è un massimo un 20 metri non di più questo è il mio consiglio poi sicuramente ognuno può fare come meglio crede poi abbiamo quattro tasti quindi tasto questo qua che fa iniziare il battito delle ali per appunto iniziare a volare l'altro tasto da parte che fa diminuire il battito delle ali fino a fermarsi per fare scendere ed atterrare il nostro aquilotto poi abbiamo un altro tasto che è questo che gli permette di volare in cerchio quindi lui farà una sorta di orbit quindi girerà in cerchio e poi abbiamo questo tasto che riproduce il verso dell'aquila qua abbiamo l'interruttore per accendere il controller qua abbiamo il joystick che gli permette tirando in avanti di andare avanti tirando in giù diminuirà il battito dali quindi tende a scendere ovviamente e poi abbiamo sinistra e destra mentre questi due grilletti lo fanno uno salire e l'altro scendere di quota io non li uso tantissimo uso di più il joystick però questi due tasti fanno queste funzioni basta direi che siamo pronti adesso è arrivato il momento di provarlo e ragazzi preparatevi perché qua è tanta tanta roba tanto divertimento tanto rischio di andare a trovarvelo dall'altra parte del paese ma se riuscite a non farlo andare nel paese vicino al vostro e tenerlo nella vostra aria è incredibile perché riproduce davvero il movimento del volo in in maniera incredibile quando inizia a sbattere gli ali in maniera fortissima per salire per venire verso di voi per quando lo fate diminuire quindi il battito delle ali diminuisce è pazzesco e poi ogni tanto da solo fa il verso dell'aquila perché qui si abbiamo il tasto che riproduce il verso dell'aquila ma ogni tanto lo fa da solo quindi sembra veramente di avere un'aquila che gira sopra di noi però direi che abbiamo parlato fin troppo adesso è arrivato il momento di divertirci quindi ragazzi andiamo e proviamo questo google bird ai gol andiamo vado ad accenderlo col tastino che abbiamo qua sopra tenendolo premuto perfetto remote connected avete sentito che il controller parla e vi dice tutto quello che succede quindi ha detto che è connesso al nostro aquilotto vi faccio sentire anche il suono dell'aquila no vabbè abbiamo anche abbiamo anche il suono dell'aquila quindi è tanta tanta roba quindi vado a cliccare il tasto d'accensione del battito d'ali e a questo punto non mi resta che partire adesso lo faccio tornare verso di me guardate che roba è spettacolare cioè guardate che roba è spettacolare lo faccio tornare adesso perché comunque lui se non state attenti va lontanissimo in un attimo è guardate quando diminuisce il battito d'ali che spettacolo guardate che roba è spettacolare spettacolare è bellissimo bellissimo bisogna solo stare attenti qua perché se si lascia un attimo andare da solo veramente lo trovate lontanissimo da voi sentite il rumore dell'aquila da solo lo fa è fantastico è bellissimo è bellissimo no stavo precipitando guardate l'ho ripreso l'ho ripreso stavo atterrando l'ho ripreso non so se dalla telecamera l'avete visto fantastico è fantastico è di un divertimento che non vi immaginate neanche è incredibile adesso lo faccio venire qua è vediamo se riesco a farlo passare vicino a me eccolo qua torna su torna su gira bellissimo stupendo adesso prova di tornare qua quella anche il rumore dell'aquila strepitoso ma poi viaggia in una maniera incredibile no torna su gira torna qua torna qua vai che torni sì che torni guardate che roba è spettacolare però rispetto al suo fratellino che è molto più affidabile dal punto di vista del pericolo di perderlo questo ragazzi è davvero più molto molto più pericoloso però è bellissimo facciamolo arrivare qua piano eccolo qua a ferrage in qualche maniera sono atterrato perché c'è il tasto questo che va a fare planare in maniera diciamo delicata l'uccello in teoria o se no tenendo giù lo stick ovviamente lui diminuisce il battito d'ali e poi atterra e l'atterraggio secondo me è stato abbastanza indolore ragazzi strepitoso strepitoso è bellissimo è bellissimo un divertimento incredibile è qualcosa di diverso dai droni che ci dà però un divertimento allucinante l'unica cosa veramente ragazzi ve lo dico nel caso lo vogliate acquistare o avete intenzione di acquistarlo è andate ad utilizzarlo dove c'è tanto tanto spazio perché lui comunque anche nel girare ha bisogno di spazio non è che fa così no fa una curva abbastanza ampia poi arriva però ha bisogno di spazio quindi ha bisogno di non avere piante sicuramente vicino a lui questa location sicuramente era l'ideale per utilizzarlo però bisogna davvero stare attenti perché comunque questo va il controller viene dato per un range addirittura di 500 metri quindi non so se sia vero o meno mi sembrano tantissimi 500 metri però sicuramente ha un bel range rispetto al suo fratellino minore che avete già visto qua sul canale che andiamo intorno ai 50 metri questo invece viene dato per 500 metri di range però a 500 metri a parte il fatto che non lo vedete neanche più uno e due dovete calcolare anche di farlo tornare alla fine non capite neanche più da che parte è girato e magari andate ancora più lontani o chissà dove finisce quindi state sempre secondo me al massimo al massimo un centinaio di metri non di più e poi non salite troppo perché quando salite comunque perdete anche di più il senso della distanza e dell'orientamento quindi se lo acquistate utilizzatelo con cautela anche perché comunque il prezzo non è per niente basso e mentre i suoi fratellini sono davvero abbordabili lui diventa già molto più impegnativo però sicuramente abbiamo un prodotto pazzesco è davvero pazzesco poi comunque lui con le sue dimensioni soffre meno il discorso del vento dell'aria vento non vento magari anche no però dell'aria sicuramente rispetto ai suoi fratellini e poi ogni tanto lui fa il verso dell'aquila da solo ed è strepitoso perché sembra proprio che ci sia un'aquila che gira intorno a noi anche se poi possiamo farla noi in autonomia il verso dell'aquila cliccando il tastino del controller quindi ragazzi spero che questo go go board i goal vi sia piaciuto e spero di avervi trasmesso delle emozioni incredibili di quelle che ho vissuto io nell'utilizzare un prodotto secondo me pazzesco anche se davvero pericoloso per quanto riguarda il rischiare di trovarcelo dall'altra parte del paese per quanto lui sbatta le ali in maniera pazzesca però ci date le emozioni incredibile un divertimento sicuramente allucinante davvero davvero tanta roba quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia prova e la mia recensione di lui il go go board i goal di cui vi lascio qua sotto il link in descrizione nel caso volete dargli un'occhiata e lasciatevi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità tante prime voli in fpv tantissimi spoiler di quello che arriva qua sul canale di lui è arrivato un po di tempo fa lo spoiler ma poi meteo non meteo comunque ci vuole la stagione giusta per utilizzare un prodotto di questo tipo non è un drone adesso sta arrivando la stagione più adatta per utilizzarlo e sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale 3 come offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupon sconto e se arriveranno i coupon sconto anche di lui li posterò proprio lì sul mio canale 3 come offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test tutorial una novità ciao e al prossimo video